Le due ragazze morte non avranno giustizia. È stata una di loro a darmela, voleva che la avessi, me l'ha data prima di morire. Norma, pensa a quello che la gente di questa città ti ha già fatto passare. Non ti è bastato, non hai capito di cosa sono capaci. Nessuno lo sa meglio di me, mi hanno stuporata. Hanno messo nel mio letto il cadavere di un uomo. Hanno rapito mio figlio, l'hanno chiuso in un ripostiglio sottoterra. Che altro possono farmi? Uccidermi? Non mi arrendo senza lottare e nessuno mi fermerà. Né tu, né Bob Paris, né gli schifosi criminali di White Pine Bay. Se io fossi un uomo, uno di quei vermi che vivono qui, diresti che faccio bene. Credi che sia una pessima idea perché pensi che io non sia in grado, perché sono una donna. Sono una madre.